Oh mio Dio, i palestinesi ci sono attaccati, ci stanno attaccando. Cosa? Quando? Perché? Il 7 ottobre. Beh, perché non lo sappiamo, però ci stanno attaccando. Oh mio Dio, ma è terribile, mi dispiace. Aspetta che faccio una ricerca. Una ricerca? No, credi a noi, non serve. Ma qua dice che... Eh? Senza motivo, eh? Sì, beh, non credere a quello che leggi lì. Sono tutte bugie. 75 anni di bugie? Sì, beh, loro sono arabi, terrorismo, musulmani. Le cose si collegano, no? Certo. Beh, tanto non ci fermerà nessuno. E poi, se stai dalla loro parte, sei antisemita. Sì. Sì. Appare. Pietro. Go. Lo so. Grazie.